Il presidente di regione Lombardia Fontana, in videoconferenza con il premier Conte, ha annunciato alle 14.30 di sabato 29 febbraio che il governo ha accettato la disposizione regionale di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado ancora per una settimana. Il testo del post pubblicato sulla pagina Facebook. Sono in riunione con il premier Conte e i presidenti delle regioni. Per ora, l'unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l'attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe. Cinque e mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e del distaccamento volontari di Lovere sono intervenuti questo sabato per un incendio di una villetta in via Adamello a Cerete. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di sabato, più precisamente nella frazione di Novezio. Le fiamme dovrebbero essersi propagate dall'esterno della proprietà. Fortunatamente nella villetta non c'era nessuno. L'allarme è stato dato da un vicino di casa e nessuno è rimasto ferito. Ancora sul posto nel primo pomeriggio di sabato i vigili del fuoco, anche per concludere l'intervento con lo smassamento e la bonifica delle zone compromesse. Tra bilanci, allarmismi e psicosi ripercorriamo insieme la settimana che ci ha cambiato la vita. Dal primo accertamento di contagio da coronavirus in Lombardia agli avvistamenti di gente vestita da carnevale. È la serata di giovedì 20 febbraio quando in Italia viene accertato il primo contagio da coronavirus autoctono. Si tratta di un manager di Codogno in provincia di Lodi di 38 anni ricoverato in terapia intensiva. La notizia si diffonde sui media di tutta Italia tra la notte e la mattina di venerdì 21 febbraio. Ben presto si scopre che quello nell'Odigiano è un vero e proprio focolaio con decine di persone contagiate, numerosi ricoveri e la decisione di mettere in quarantena la cosiddetta zona rossa. Le persone isolate tutt'oggi sono circa 50.000. Per loro c'è il divieto di uscire dal paese e vengono interdette le principali attività. Nel frattempo non si trova il paziente zero, cioè colui da cui sarebbe partito il contagio. In Val Seriana da domenica 22 febbraio vengono annullati tutti gli eventi in programma per il carnevale e gli eventi sportivi. L'ultima settimana di febbraio trascorre così tra il rincorrersi di bollettini di contagi, decessi e guarigioni e una dilagante psicosi che porta a svuotare i supermercati e ad isolare gli italiani. Mentre si attende per sabato 29 febbraio la decisione del governo in merito al protrarsi della chiusura delle scuole, così come richiesto dalla regione Lombardia che ritiene, insieme ad un pool di medici e scienziati, necessario mantenere le limitazioni anti-contagio per altri sette giorni, salgono a sette i morti positivi al coronavirus in provincia di Bergamo, dove si registrano finora 103 persone contagiate. Sei delle vittime erano residenti in Val Seriana, uno in città. Gli ultimi decessi riguardano un 82enne di Nembro, una donna di 80 anni di Gandino ed una 86enne di Cene. Nel frattempo sul web vengono smascherate fake news. L'ultima è quella di un uomo, con tutta bianca e maschera antigas, che fa la spesa in un supermercato di Clusone. La Polizia di Stato anche questa settimana ha proseguito con i consueti servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti. Tratto in arresto uno spacciatore che si aggirava in provincia di Bergamo. Nello specifico, personale della sezione antidroga della squadra mobile ha tratto in arresto Aida Rashid, nato in Marocco nel 1988. Da tempo, gli agenti avevano notato che il cittadino marocchino era solito muoversi nel comune di Scantorosciate, a bordo di una Volkswagen Golf di colore grigio. Era già noto agli operatori per essere gravitante nel mondo dei consumatori di cocaina e dei tossicodipendenti. Sospese fino al 7 marzo le lezioni nelle Università della Lombardia. Lo ha comunicato venerdì sera il rettore di Bergamo, il professor Remo Morgenti Pellegrini. Le Università della Lombardia ritengono che siano ancora attuali le ragioni cautelative che hanno condotto a sospendere le attività didattiche nella settimana iniziata lunedì 24 febbraio. Per consentire il sereno funzionamento delle attività istituzionali di tutti gli Atenei Lombardi, le attività formative in presenza sono sospese fino a sabato 7 marzo. Al fine di contenere gli effetti negativi di questa emergenza, tutte le Università della Lombardia si sono nel frattempo attivate per offrire agli studenti forme di didattica a distanza. La prospettiva è che tutte le attività possano riprendere da lunedì 9 marzo. L'emergenza sanitaria, come le sue possibili ricadute economiche, ha portato alla ribalta il tema dello smart working, lavoro da casa o lavoro agile. Se nel resto del mondo molte aziende hanno adottato questo sistema, a prescindere dal virus del Covid-19, in Italia lo smart working sta diventando un fenomeno grazie al virus. Fino al 15 marzo i territori coinvolti dall'epidemia e dal contagio maggiore, e quindi anche la provincia di Bergamo, potranno applicare la norma che il governo ha emanato, per favorire lo sviluppo e gli accordi anche individuali sul lavoro da casa. Potrebbero essere oltre 140.000 i lavoratori bergamaschi, che in queste settimane potranno usufruire del lavoro agile. Appuntamento domenica 1 marzo su Canale 5, nella trasmissione di Mela Verde ideata da Giacomo Tiraboschi, originario della Bergamasca con il mais spinato di Gandino. A inizio febbraio la troupe è andata alla scoperta delle origini e dei vari produttori del pregiato mais della Val Gandino. La puntata sarà condotta da Ellen Hidding. Milioni di telespettatori hanno apprezzato in questi anni i racconti che la celeberrima trasmissione ha dedicato a natura, agricoltura ed enogastronomia. Il coronavirus non risparmia nemmeno il mondo del calcio. Dopo il rinvio di alcune partite di Serie A, è di giovedì la notizia di un giornalista spagnolo contagiato a Milano in occasione della partita di Champions League tra il Valencia e l'Atalanta. A riferirlo è il quotidiano spagnolo AS. Il caso del 44enne giornalista della Radio Interconomia Valencia Editorialista del quotidiano La Provincias è il primo contagio accertato a Valencia. In serata ne sono seguiti altri quattro dei quali riconducibili al giornalista stesso. Cosa succederà dunque all'Atalanta e agli Atalantini? Per ora la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta del 10 marzo è confermata, ma potrebbe essere disputata a porte chiuse. Grazie a tutti.